e benvenuti in questo nuovo episodio di kingdome miaz ok adesso partiremo per andare in un nuovo mondo controlliamo un attimo le armi gli accessori bene ok a posto bene si parte si sa come andare in un mondo ok ragazzi andremo qui ah dimenticavo buona visione 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 Siamo sul monte Olimpo. Sinceramente c'è una cosa che odio di questo livello, la musica, uff quanto l'odio, insomma non gli dà consiglia a voi, ma tanto, vabbè, entriamo. Ok, 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 ok. Ok, ok, ora parlo, e qui non si proceda, It's way too heavy. What? Too heavy? Since when have you been such a little... Oh, wrong guy. What are you doing here? This here's the world-famous Coliseum, Heroes Only. And I got my hands full preparing for the games, so run along, pipsqueaks. Look, it's like this. Heroes are coming from all over to fight ferocious monsters right here in the Coliseum. You got the worst man in front of you. Yup, he's a real hero chosen by the Keyblade. And real heroes too. Hero? That grunt? What's so funny? I fought a bunch of monsters. Oh, look at these idiots, they're like a cat. You can't call yourself. You can't call yourself. ok so it takes more than one. Well, let's see what you can do. Ok, affrontiamo la prova di Phil. Ok, affrontiamo la prova di Phil. Ok, affrontiamo la prova di Phil. Ok, perfetto! Ok, perfetto! Ok, perfetto! è un po' complicato tutto questo e vai che l'ho fatta? è proprio testato vabbè non posso farsi nulla un piacere un piacere un piacere un piacere guarda 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 la mia vuoi 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 vieni 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 un pass è tutto vieni va buona All right kid, I'm pulling for you a little shorty. Ormai ha fatto un grosso ecorri. Darmi, darmi, darmi il biglietto. Armi ha fatto un grosso ecorri. Occhio! E' un grosso ecorri. E' un grosso ecorri. Allora, ragazzi, affrontiamo le eliminatorie per il torneo. Allora, l'esercito! Grazie a tutti. 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 Perchè? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Bene. Grazie a tutti. a tutti. e... bravo. e... ... 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 ...... ... ... ... ...... ......